Ci avete mai pensato a come sarebbe stata la nostra vita nell'ultimo anno senza internet? Grazie alla rete abbiamo potuto continuare a studiare, a lavorare, a comprare, a vendere, a ascoltare musica, a vedere film. Siamo rimasti in contatto con i nostri effetti fondamentali. Per molti l'emergenza sanitaria è stata la molla che ci ha portato a stare in rete, ma per molti altri internet è stato molto di più che uno strumento per resistere. È stato il modo per reinventarsi, per diventare migliori. Oggi nel paese ci sono studenti e docenti, medici e pazienti, artigiani e commercianti che sono migliori di prima, che sono migliorati grazie al digitale. Beh, cerchiamo le vostre storie. La RAI sta cercando le storie per girare una serie televisiva che racconti il risorgimento digitale degli italiani, che non solo hanno resistito grazie al digitale, ma si sono reinventati, che sono diventati migliori. Se anche questa è la tua storia, la aspettiamo. La RAI sta cercando le storie per girare una serie televisiva.